Per 15 giorni ho portato la mascherina, ho fatto solo casa e ufficio, anche in casa ho dormito da solo, avevo anche pochi rapporti anche con i familiari proprio per evitare chiaramente un discorso di possibile contagio. Ora penso, spero di esserne completamente fuori. Finisce oggi la quarantena di Pietro Faralli, l'aretino che si trovava a Wuhan solamente un giorno prima della chiusura della cittadina cinese epicentro del coronavirus. Mi ha dato un po' una sensazione di essere uno scampato al pericolo, anche se appunto ci ero capitato per caso e se l'avessi saputo sicuramente non ci sarei andato. L'ex presidente della Camera di Commercio ha infatti lasciato la metropoli cinese lo scorso 22 gennaio, poche ore prima che scattasse il blocco imposto dal regime cinese con la città chiusa in un cordone sanitario e circondata dall'esercito. Non avevo assolutamente capito che c'era un problema di questo genere, ma avevano parlato di una piccola influenza, però devo dire che quando sono arrivato non ho trovato una situazione drammatica, anzi la città era assolutamente viva e solo un 20-30% della popolazione aveva la mascherina. Poi siamo rimasti lì un giorno, fortunatamente non siamo neanche usciti dall'albergo perché era brutto tempo e siamo ripartiti poi per Guangzhou e da lì per Bangkok. Dopo la tappa thailandese Faralli è tornato in città atterrando all'aeroporto di Roma lo scorso 27 gennaio. Anche in questo caso in assenza di sintomi non c'è stato alcun provvedimento, ma per scelta personale si è autoimposto la quarantena. No, mi sembra doveroso rispetto agli altri, tanto ormai se ce l'hai te ce l'hai, però essere un portatore, essere una mina vagante che potrebbe infettare gli altri chiaramente non fa parte del mio mondo insomma. Però ha percepito una psicosi anche qui da noi, da coronavirus? Assolutamente, devo dire che da questo punto di vista è anche un insegnamento di vita importante, essere capitato così per caso, una cosa in cui ti ci sei trovato, e vederti in qualche modo all'interno anche della cerchia dei familiari, delle persone più care, di alcuni amici eccetera così, e essere veramente guardato come una cosa strana, devo dire che è una cosa che lì per lì non fa piacere. Poi capisci che chiaramente tutto questo bombardamento televisivo crea una psicosi nelle persone ed è normale, forse l'avrei fatto anch'io.